E dunque l'iter per la riconversione dell'ex Unilever di Pozzigli è indirittura d'arrivo. Con ancora nelle orecchie l'annuncio congiunto dell'assessore dilucente e del socio in quota seri Civitillo, l'omologo di Unilever assente giustificato, qualche incertezza resta. A cominciare dalla determina di Invitalia necessaria allo sblocco del finanziamento, ancora non c'è. La gognata firma, come rimarcato dallo stesso dilucente, dovrebbe arrivare ad inizio 2025, ma c'è di più dei 109 milioni totali. Solo due saranno destinati al settore ricerca e sviluppo. Inizialmente nel progetto P2P dovevano essere 48. Provederemo con mezzi propri, rinunciando a gran parte della quota di finanziamento a fondo perduto, ha rimarcato Vittorio Civitillo. Ma tali risorse che apporterà l'azienda finanzieranno effettivamente la ricerca, parte fondamentale dell'originario piano? Sulle questioni il fronte sindacale non sembra coeso. A proposito, a presenziare alla conferenza stampa di ieri in regione solo la Will che dalla prima ora ha abbracciato il piano. Dalla Cisal Antonio Martone tra virgolette si accontenta dell'unico risultato certo al momento prodotto da quell'annuncio. C'è una certezza, cioè che domani discuteremo la cassa integrazione per l'anno 2025. E questo è un fatto importante per il sindacato perché tutela il salario dei lavoratori. Che sia tutto questo che è stato fatto in questi giorni propedeutico alla cassa integrazione, non me la sento di dirlo, però i condizionali sono stati usati sia dalla regione che anche dall'ingegnere Civitillo, per cui anche noi diciamo che aspettiamo fiduciosi la firma. Solo il tempo dirà chi aveva ragione e chi aveva torto. Ammaricati per uno scarso coinvolgimento dei sindacati che avrebbero potuto approfondire un po' l'argomento e capire un po' di più la situazione.